Il campus di Savona è un'innovazione per l'Università Ligure, in quanto possiamo usufruire di uno spazio verde, il quale è molto comodo, soprattutto nelle belle giornate, sia per studiare che per rilassarsi dopo le lezioni, rendendo l'esperienza universitaria molto più piacevole. Inoltre possiamo usufruire di una biblioteca, mediateca, molto ben organizzata, che si trova all'interno del campus. Grazie a tutti Grazie a tutti